mario ma ti hanno stressato molto qui per fare questo sì allora se in bianco quindi non ti hanno spremuto un po troppo per questo film ah ecco meno male meno male però poi quando è finito tutto ma in vacanza al mare due mesi a tenerife più un mese in basile per fare un giro torno tra una settimana quindi fai l'ultima volta che l'ho visto tornava veramente da hong kong e non ci credevo quasi perché è appena arrivato ah è vero è vero